Come stabilito dall'ordinanza del governatore Zaia, nelle scuole superiori del Veneto la didattica per gli studenti sarà a distanza almeno ancora fino al 31 gennaio, prevedendo qualche deroga per le attività laboratoriali e per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Una modalità che in alcuni casi può creare delle difficoltà agli studenti e di riflesso anche alle famiglie. Ecco che anche in provincia alcune scuole, come nel caso del liceo statale Renier, si sono attivate per proporre un eventuale supporto psicologico per gli alunni, ma anche per il personale scolastico e i genitori. Noi qui a scuola avevamo già attivo un sportello CIC per gli studenti come punto di ascolto, ma grazie ad uno speciale bando del Ministero ideato proprio per proteggiare l'emergenza Covid, abbiamo potuto attivare il servizio della psicologa d'istituto e a partire dalla settimana prossima il servizio sarà attivo attraverso l'email i ragazzi si potranno prenotare e comunicheranno direttamente con la psicologa. Gli incontri avverranno in modalità a distanza, un nuovo servizio disponibile fino a giugno che sommato al potenziamento didattico reso possibile grazie sempre a specifici bandi attivati nell'ambito dell'emergenza Covid potrà rappresentare un'ulteriore opportunità per i giovani. Servirà per aiutare i ragazzi in questo momento molto difficile in cui si vedono comunque privati di tutto ciò che fa parte della loro vita, la socialità, il venire a scuola, il vedere gli amici e anche il seguire la scuola in modo completamente diverso che magari da un punto di vista didattico può anche essere non cambiato ma da un punto di vista personale ed emotivo assolutamente sì.